mi chiamo Kelly Harmon attrice e voglio parlarvi di tic tac con la mia professione sempre a contatto con la gente l'alito fresco è molto importante certo e allora mette in bocca un tic tac mi dà tanta freschezza e in solo due calorie tic tac tanta freschezza in due calorie Martini Dry gusto secco da scoprire perché accontentarti del solo pulito pretendi di più pretendi il pulito brillante di finish finish e tutto brilla di luce propria guarda il bicchiere brilla senza luni e macchie finish lo specialista in pulito brillante oggi anche liquido con la fragranza del limone non tutte le zanzare fungono è solo la zanzara femmina che ci colpisce e ci procura quel fastidioso prurito a questo problema la tecnologia vape risponde con una piastrina a dosaggio controllato e un elettroemanatore elettronico con il regolatore automatico di temperatura e il pratico filo avvolgibile con l'insetticida vape nessuno ci può pungere aerare il locale prima di soggiornarvi questo è il mio primo album secondo noi è una figata give me five all right Hux Pies o The Toilet deodorant per uomo vi offre perché non mi hai telefonato? perché mi ero appena abituato a fare meno di te Jacqueline B.C. la sua passione è come l'isola di Mauna Nui venite a Mauna Nui bella e addormentata Paul Newman il suo amore è fuoco mi sei mancato è fuoco sono solo parole che d'improvviso si riaccende come il vulcano di Mauna Nui ormai non c'è più scampo domani alle 20.30 su Canale 5 ehi che panoramica domani sera appuntamento con le stelle alle 20.30 Supercopter lassù il massimo non si usa bussare? e di seguito Starman il simpatico esploratore dell'universo Supercopter e Starman domani sera a partire dalle 20.30 su Italia 1 Succhi Santa Rosa solo frutta al 100% a partire dalle 20.30 su Canale di Mauna Nui sai Licia Persona è veramente efficace davvero un attimo prendo gli orecchini Licia Persona antiodorante non profumato non so proprio cosa parmene si sente Licia Persona antiodorante non profumato a lunga durata non copre gli odori li elimina anche nella gradevole versione fresco e da Licia un regalo originale Zip la spazzola che fa click ogni due prodotti Licia Studio Line di L'Oreal Shampoo Toner di Studio Line Brividi Blu sui tuoi capelli Vitalità è un tono nuovo Luce da carezzare sui tuoi capelli per ogni giorno ogni tuo giorno Vivo Vivo e frizzante Nuovo Shampoo Toner di Studio Line tono e vitalità ai tuoi capelli Rosa da vedere Mare blu da mare Rosa da gustare Rosa da fettire Mare blu da offrire Piacere che da mordere Mare blu Solo il tono mare blu è la tua rosa di mare Piacere che da mordere Piacere che da mordere Piacere che da mordere Nuova generazione Gli da di più Piacere che da mordere della canzone Zucchero e gaspattino Estate 5 Venerdì alle 20.30 Festival La festa dello spettacolo Se avete denti sensibili o gengive delicate Oggi per voi c'è una novità importante Viene da Menterent E Menterent DS In difesa di denti sensibili E gengive delicate Questo è il mio primo album Secondo noi è una figata La natura insegna come regolarizzare il nostro corpo Le foglie di senna hanno proprietà lassative E dalle foglie di senna Pursennit Un prodotto naturale per regolare l'intestino È un medicinale Usare con cautela Se incontro quello Se mi ha convinto Almeno in crociera L'affogo Signor Nino Il suo caffè E ti vale il momento Ma i cremai gusto Ogni momento è quello giusto Aspetta in bocca Io non mi lascio Ecco arriva Ammazza quant'è salato Ma se ancora non glielo dà Ma che aspetti Oh è lavazza E più lo mangi giù E più ti viene su Io ci mancano da Frendi Frendi Da non perdere Mamme vi dimostriamo Con l'asciutto L'asciutto di linee soro Sì Con l'evaporimetro Strumento sensibilissimo Per verificare il grado di asciutto Della pelle Misuriamo ad esempio Il palmo della sua mano È bello asciutto E segna 30 Vedete Ora bagniamo questo linee soro Vedrete che con linee soro Marco l'asciutto Marco lino siede sull'asciutto Lo verifichiamo Segna 28 Come il palmo della sua mano Linee soro Asciutto come il palmo della sua mano AX Il primo eau de toilette Teodoron per l'uomo Oggi AX Spice Il fascino di una nuova fragranza AX Laissez le charme agire AX 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 AX